La nuova strategia del questore di Torino mira a colpire il traffico degli stupefacenti più che lo spaccio al dettaglio, con lo scopo di risalire ai fornitori di droga. L'ultima operazione della squadra mobile ha intercettato un vero e proprio deposito destinato a rifornire le piazze di spaccio di Torino, con conseguente incidenza sulla quantità di stupefacenti nella circolazione e quindi sull'attività dei pusher. L'indagine ha avuto inizio lo scorso 11 giugno, quando il personale della Polizia di Stato ha proceduto in Corso Dante e Angolo Vinizza al controllo e all'arresto di due cittadini albanesi di 32-19 anni, responsabili in concorso dell'illecita detenzione di oltre 25 kg di marijuana. La sostanza era stipata a bordo del veicolo su cui viaggiavano i due, una Fiat 500 L presa a noleggio. Era evidente che i due avessero prelevato l'ingente quantitativo di stupefacenti da un deposito e che stessero per effettuare una consegna a Torino. Gli accertamenti esperiti sull'utenza telefonica in loro possesso hanno consentito di risalire a ritroso al viaggio effettuato dalle stessi fino alla provincia di Pesaro Urbino. Lo scorso 14 giugno, lavorando in stretto accordo operativo con la squadra mobile di Pesaro Urbino, è stata raggiunta la città di Gabicemonte. Svolgendo gli accertamenti nelle vie diecenti alla strada panoramica, è stato individuato un cittadino albanese del 1982. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo nell'alloggio e nella mansarda dell'abitazione. Sono stati trovati infatti numerosi involucri imballati con del cellophane contenenti complessivamente quasi 500 kg di marijuana e 40 g di cocaina. Il numero degli arresti per spaccio di stupefacenti è in costante aumento. Solo negli ultimi tre giorni sono state infatti arrestate dal personale della squadra volanti e dei commissariati cittadini 6 persone per reati connessi al commercio e al traffico di droga.